te l'ho detto è quelli lì sì sì io pensavo dice no no quelli sopra ci carichiamo non tritarli tu no no ma che tritarli si basta inquadrato no aspetta inquadra se vuoi quella fila lassù se vuoi farlo intanto io li pulisco ma questi qua non sono belli sono di più infatti ti ho detto aspetta che io li avevo trovati non una roba ma così belli io quest'anno è questa questa è andava avanti con registrare questa è proprio guarda fino alla ina 4 metri di spinera figa ma tu guarda che funghi questi qua ragazzi guarda che roba ma guarda cineteca no 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 no